buongiorno a tutti e a tutti da Salvorus in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi veda andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio oggi sabato 21 ottobre 2023 questa diretta sarà monotematica come sempre ormai parlerò di un argomento ovvero l'appuntamento di domani mattina dalle 8 alle 10 presso l'antica strada romana per chi vuole essere ci vediamo domani mattina faremo della manutenzione ordinaria che prevede la rimozione del riccio laddove è ancora presente in alcuni punti e probabilmente toglieremo un po' di erbaccia che nel frattempo in questo mese è cresciuta nel frattempo sarà un modo anche per confrontarci su cosa faccio all'interno cosa stiamo studiando stiamo cercando di programmare per la prossima stagione diciamo primaverina abbiamo attenzione di farci degli eventi e quindi se volete aiutarci c'è la possibilità di venire fisicamente con noi sbracciarsi e appunto darci una mano oppure per chi volesse potete fare delle piccole donazioni che servono al sostentamento del nostro volontariato civico codice stazione di oggi 0840 permetterà di vincere lunedì sera un buono amazon da 10 euro basta per il resto oggi è sabato appunto di mattina mi trovate fino alle 13 l'unico dubbio l'unica perplessità rimane il tempo in medio qualora dovesse mantenersi così l'evento si farà domani mattina l'attività si farà qualora invece dovesse piovere riceverete eventualmente ulteriori comunicazioni come fare a rimanere informati basta mandare un messaggio whatsapp al 347 10 97 484 o ancora meglio entrare sul canale whatsapp siracusa il primo canale tematico siracusano creato da siracusani si chiama siracusa vabbè io sono arrivato sul mio posto di lavoro per chi volesse perché vi avesse piacere ci vediamo domani ciao da salvolusso ciao